In tanti hanno rinunciato a causa delle disdette a intermittenza ed altri per l'impossibilità di poter abbinare al cenone, la discoteca e lo spettacolo. Così denuncia Giorgio Carissimi, segretario di Confesercenti. Organizzare gli eventi è troppo rischioso per i ristoratori, sia per le disdette dell'ultimo momento, sia per la paura del contagio da parte dei clienti. Nei giorni feriali si lavora di più che nei giorni di festa, sottolinea Carissimi. Saranno dunque in pochi i ristoratori aquilani ad essere aperti per il cenone di fine anno, tra questi la grotta di Aligi, che spiega il perché. L'approccio a questo capodanno Covid è caratterizzato da un po' più d'ansia del solito, appunto per le varie prenotazioni e poi disdette, in quanto comunque in questi giorni molte persone sono venute a contatto con positivi, il tasso di positività è alto e quindi è normale, insomma statisticamente. Però il nostro approccio è comunque positivo nel senso buono del termine e siamo fiduciosi. Al momento le prenotazioni ci sono, sono altalenanti appunto perché ora disdicono, ora prenotano, però al momento ci sono. Ci stiamo anche attrezzando per l'asporto, appunto per chi magari scopre all'ultimo di non poter partecipare e quindi stiamo avendo per il momento un discreto riscontro e successo. Attendiamo con esattezza domani perché il 30 molti faranno il tampone e quindi mi daranno l'effettiva risposta il 30, però siamo fiduciosi, insomma, lo abbiamo voluto fare e siamo contenti. Sul fronte alberghi la situazione è più difficile. Un calo a picco delle prenotazioni si è rilevato già da novembre in tutto il comprensorio del capoluogo. A fronte di un'estate che ha fatto registrare il tutto esaurito, gli alberghi per questo fine anno sono vuoti. Ma non è solo colpa del covid, denuncia Mario Di Giovanni di Federalberghi Provinciale. Il problema è strutturale. La città non dispone di un'offerta turistica invernale e nessuno prenotano a vacanza a lungo termine. Le meravigliose luci di Natale della città sembrano, dice Di Giovanni, essere state allestite solo per gli aquilani. Sono previste comunque per il 31 a sera le prenotazioni dell'ultimo minuto per dormire dopo il cenone. Ma pochi cenoni in città fanno prevedere anche pochissimi ospiti negli alberghi. Grazie a tutti.